Sembra mai lontano il difficile periodo della Pernigotti legato alla proprietà Toxos e il rilancio dello stabilimento di Novi Ligure diventa sempre più concreto. Dopo l'annuncio degli americani della Lindstone del gruppo JP Morgan che hanno rilevato il marchio della ripresa della produzione, un'altra bella notizia che va serena alla città e ai dipendenti riguarda il trasferimento a Novi anche della sede legale dell'azienda, attualmente ubicata a Milano. In questo modo la nuova proprietà ha accolto le richieste da tempo avanzate dei sindacati, rimaste finora inascoltate, causando peraltro notevoli disagi alla decina di impiegati che avevano accettato di trasferirsi momentaneamente nel capoluogo lombardo. Insomma, il futuro per la Pernigotti si prospetta a Rosio, sia dal punto di vista produttivo che da quello occupazionale, creando anche notevoli ricadute economiche per la città di Novi Ligure. La decisione della JP Morgan si inserisce, come evidenza il comunicato emesso dalla dirigenza, nell'ampio progetto di valorizzare il connubio tra aziende e territorio novese, da cui la Pernigotti non può e non vuole prescindere in alcun modo. Il trasferimento della sede legale a Novi ha dichiarato soddisfatto il segretario provinciale Willa Willa Tiziano Crocco e un ulteriore passo verso il definitivo e totale ritorno dell'azienda in città, e consentirà inoltre di ottimizzare i costi. La produzione, sebbene in ritardo rispetto al consueto, è stata avviata anche nell'imminenza delle festività natalizie, col contributo di G67 interinali affiancati ai 50 dipendenti. Il 2023 sarà poi l'anno in cui si aggiungeranno nuove linee di produzione, in particolare quello delle creme spalmabili che i Toxos avevano trasferito in Turchia. Il prossimo anno inoltre saranno effettuati anche lavori di restyling allo stabilimento novese. Insomma, tutto è pronto per ripartire alla grande.